Io credo che le università italiane si stiano assolutamente qualificando, innovando e credo che la qualità del reclutamento e anche della valutazione poi di ciò che le università fanno e che hanno esattamente un sistema di valutazione secondo me importante, anche se va sempre monitorato e verificato, però dicono che è significativo. Perché dove c'è eventualmente nepotismo vuol dire che non c'è apertura, non c'è internazionalizzazione, non c'è capacità di innovazione. Lavoreremo a migliorare.